Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale il mondo di Arona e Gianina e oggi andiamo a vedere insieme come si preparano i deliziosi biscotti frolli con goce di cioccolato delle delizie sotto forma di biscotti che vi salveranno tantissime colazioni e merende oggi andiamo a vedere insieme come li si preparano per questa deliziosa ricetta ci serviranno un uovo intero e due tuorli 300 grammi di farina 00 100 grammi di zucchero di canna biologico 100 grammi di burro a temperatura ambiente 100 grammi di gocce di cioccolato fondente la scorza di un limone grattugiato i semi di una bacca di vaniglia ed infine un pizzichino di sale abbiamo messo in una ciotola bella capiente la farina e ora ci facciamo la classica fontana cioè il buco in mezzo e ci aggiungiamo lo zucchero il burro le uova la scorza del nostro limone i semi della bacca di vaniglia e il pizzico di sale ora mescoliamo tutti gli ingredienti per bene finché non diventeranno un impasto bello omogeneo quando gli ingredienti si saranno leggermente amalgamati trasferiremo il nostro impasto sul piano di lavoro e lo lavoreremo finché diventerà bello omogeneo fatto ciò non ci rimane altro che aggiungere le nostre gocce di cioccolato e amalgamare per bene le nostre gocce assieme all'impasto finiti da amalgamare le nostre gocce abbiamo diviso in due il nostro impasto e ora ne stiamo stendendo una delle metà mi raccomando non stendetela troppo fine o troppo grande che dopo si farà fatica a coparle con il bicchierino si possono usare diverse formine ma noi oggi faremo quello classico con il bicchierino mi raccomando spingete bene così il biscotto viene perfetto seguite attentamente quello che sta facendo la mia mamma fatto ciò trasferiamo i nostri biscottini su una leccarda con carta da forno mi raccomando distanziamoli un pochino perché in cottura si gonfieranno leggermente continuiamo così finché non finiamo tutto il nostro impasto finiti di posare sulla leccarda tutti i nostri biscotti li inforniamo a 160 gradi forno ventilato per 13-15 minuti ossia fino alla doratura ma guardate come sono venuti bene i nostri biscottini bene ragazzi ora siamo arrivati al mio momento preferito sia l'assaggio e adesso non vedo l'ora di gustarmi questi deliziosi biscottini assaggiamo ragazzi sono la fine del mondo sono belli croccantosi poi l'impasto è fragrante leggero il tutto viene completato da queste goccette di cioccolato poi c'è un retrogusto nocciolato dato dallo zucchero di canna che ha formato una crosticina sopra bella dorata insomma sono veramente dei biscotti deliziosi assolutamente da provare ok ragazzi il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi se il video vi è piaciuto iscrivetevi al nostro canale mettete tanti like e tanti commenti come speriamo anche che sia e noi auguriamo a tutti una splendida giornata ciao ragazzi